Comunicato numero uno Questo videopassaggio è per rivendicare i diritti delle donne più volte campestanti durante le serate degli Outligger Ci siamo arrotte alle avvaglie dei loro comportamenti mascheristi e per questo abbiamo deciso di sequestrarli Stronzi! Li rilascieremo venerdì 4 ottobre alle ore 22 al Fabric Se volete assisteri alla liberazione a corrette numerosi Sardino! Non mancate Sardino! 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 Sardino!